Pronto Stai zitto, devo parlare io, ti devo parlare io, una cosa urgente Sì, ma io... Antonio, ho avuto un incidente, si è fatto male Cioè, no, cioè... Zitto, fammi parlare a me, aspetta, non parlare Sì, ma fammi riuscire... Antonio, ha avuto un incidente, si è fatto male, ma sta malissimo, ha bisogno di te, corri Non mi mind, ma io farò mind Ancora? Tu stai zitto, dopo parlare io, devi venire qua, che Antonio si è fatto l'incidente, sta malissimo Dai! Ma chi è questo Antonio? Come che Antonio? Antonio, fratello di Giovanni Giovanni, ma chi è? Ma... tu sei Pasquale? Ma chi tu sa? Ah... Allora, ma me lo dici Tu non mi fai parlare, oi Gio! Lo dici Voi, io mi sembra se poi che si tu hannò Ma va fanculo, va? Ma va fanculo, va? Ma va fanculo, va?